Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video Allora oggi diciamo i miei due giorni qui a Sant'Agada Perché oggi c'era il concerto dell'Elettra Lamborghini Quindi lo volevamo andare a vedere Bene sì, vi mostrerò l'albergo, vi mostrerò insomma un po' tutta la giornata e anche il concerto Quindi mi raccomando tenetevi aggiornati, a dopo Ci stiamo dirigendo verso l'hotel Sì Che hai da dire? Almeno guarda la fotocamera Sì, vi faccio vedere Sto proprio bene Bene praticamente questo qui è tutto l'hotel nostro Me l'aspettavo un po' più piccolo però invece è grande, hai prenotato bene Grazie Che bello Bene ragazzi adesso noi ve lo faremo vedere così Insomma ci organizziamo Comunque lì ci stanno le macchine Cioè mia zia e anche mia madre che è andata con Federica E si deve notare che mi sono fatta male Bello, ci vediamo dopo Bene è iniziato ad andare e come se non bastasse le nostre sfortune sono alle porte Ovvero abbiamo sbarbiato porta Adesso stiamo di nuovo camminando ragazzi Però adesso siamo arrivati Ragazzi adesso noi siamo arrivati nella camera Qui c'è il balconcino Molto bello devo dire che mi piace la vista Ok allora ora vi inizio a far vedere la camera Bene non posso farmi vedere adesso il bagno perché vabbè Cioè ci stanno mamma e Federica Comunque già il putiferio lo potete notare Allora qui c'è un piccolo Framadietto vuoto naturalmente Perché siamo appena arrivati proprio in questo momento Qui vi dicevo la vista Ok qui c'è il letto diciamo molto bello Con vari quadri E ragazzi sì anche un ventilatore Bene qui c'è la piccola scrivania con un mini frigo Che se non sbaglio si apre da qui con acqua liscia e frizzante Ok qui c'è la nostra valigia E qui ci stanno due comodini con una mini panchina Che in verità serve sia per sedersi Ah che bello Sì E poi qui per mettere le scarpe Qui c'è uno specchio Oh ragazzi ciao Come state? Wow Mi piace? Ok Stanno bussando alla porta Ciao ventilatore E adesso noi aspettiamo l'ora per vedere il bagno Mamma Ragazzi noi dobbiamo vedere il bagno Guardate Qui c'è sempre un lavandino gigante Con qua c'è il phon se non sbaglio Ok sì Avete capito Qua tantissimi porti asciugamani E un porta qualcosa Qui c'è la doccia E ho capito avete capito sì Qui c'è la solita cosa E qui c'è l'appendio asciugamani Poi qui c'è uno specchio Che ragazzi C'è Dai Ciao Ma dai Tirabile Bellissimo E poi qui Non so cosa ci sia però C'è una mini finestra Già aperta Bene ragazzi Il tour è finito Adesso noi ci vedremo dopo Per andare al concerto Quindi a dopo Stiamo andando verso la piazza di Sant'Agata Sì io non ve l'avevo detto Sì io non ve l'avevo detto ma il concerto non è solo di Elettra Lamborghini C'è anche Ricky e il nostro cantante No No c'è Ciccio Riccio Ragazzi c'è Riccio Ah sì C'è Ricci e Elettra Poi vedremo Poi vedremo come andrà Perché noi non so che ora mangeremo Penso adesso perché stiamo andando in piazza Cioè guardate Qua c'è Federica e qua c'è tutta la piazza che stiamo percorrendo Ma dai Sì lì la chiesa E poi abbiamo già visto in un castello Vero quello vicino Foggia Non mentire Poi domani vedremo Eh Lei si vuole stare zitta perché mamma l'ha sporcata tutta la macchina No Non lo dite Sì l'ha sporcata tutta la macchina A dopo Non lo dite Vati a casa nostra di Sant'Agata Ve la faccio vedere Ecco qui Sì è questa palazzina perché poi ci viveva altra gente che mi sa che è pure venduto la casa Qui non c'è l'elettricità perché se no ve l'hai fatta vedere Oppure questa Sempre disgrazia abbiamo Cioè Vi piace? Cioè oddio vi piace Una scalinata è però Ma secondo me all'interno è bella vero? Sì Sto molto arrabbiando perché stiamo tornando indietro Per una fatica a salire Infatti potete vedere che qui c'è la chiesa Ecco Stiamo tornando indietro per una fatica a salire Solo per andare a prendere un trancio di pizza Che dobbiamo mangiare per forza Perché se no Non abbiamo più niente da mangiare E cioè Quindi Ore E minuti persi Per poi tornare a prendere Una trancio di pizza Per poi tornare Alla casa E subito dopo Al concerto E subito dopo ancora All'albergo Poi l'illuminare di prima Cioè Guardate adesso Bellissimo Vedendoci Federica che piange Che Si è fatta male l'occhio Ragazzi Ci siamo Stiamo andando al concerto Non ci siamo Tu quando fai la mia strada Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Bene ragazzi, noi siamo appena usciti dal castello e niente, io vi volevo salutare per questa magnifica avventura e beh, spero che il video vi sia piaciuto. Mi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like. Ciao!